Dal Parlamento, sì, ma capolista in Europa un Berlusconi d'assalto, quello di oggi, che punta all'Election Day nazionali europee e dichiara voglio essere capolista in tutte le regioni alle europee. Allora, ne parliamo con Carmelo Lopapa. Carmelo? Sì, Silvio Berlusconi si sente sempre più in campagna elettorale, lo confermano i toni e i contenuti di questo suo intervento di oggi pomeriggio, un incontro con i coordinatori regionali appena nominati. Berlusconi si sostiene di volersi candidare all'europea, non può farlo, eppure la propaganda ha perso l'elettorato passivo con la sentenza passata in giudicatola, con Dan Mediaset. Eppure lui allude a ricorsi generiche sedi europee e sostiene di potersi candidare in tutte le regioni. Rivela anche che alcuni paesi gli avrebbero proposto una candidatura altrove, da Malta alla Romania, alla Bulgaria, alla Spagna. Si vedrà. Lui intanto punta all'Election Day, spera ancora in un'elezione congiunta europee politiche e per questo tandem invita i coordinatori a mobilitarsi, preparatevi alle elezioni imminenti. Passando alle cose serie, Berlusconi conferma che un incontro con Renzi ci sarà prima del 27, quando la legge elettorale andrà in aula, e conferma che Forza Italia punta sul sistema spagnolo, che è uno dei tre modelli elettorali proposti da Renzi. Vedremo se su queste basi sarà possibile raggiungere un accordo. Ringrazio.